La realizzata bene Mattino, ok? Tu di qua vieni tra, ok? Pronto? Come ti metti? Vai, andiamo, vai! Uno, due, giù, bravo! Va bene, continua, Francia continua, 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 batti uno, due, giù! Buona, devi fare! Vada fra, uno, due, giù, bravo! La devi dare Francia! Aspetta, giù, bravo! L'ultimo, l'ultimo Mattino, vieni uno, due, giù! Bravo!